Il centro storico di Ragusa Superiore è dimenticato da tutti i cittadini ed amministrazione, una zona ormai morente sulla quale tutti sanno ma nessuno interviene. Il passeggio che si registrava qualche decina di anni fa è ormai solo un ricordo e i locali aprono e chiudono con cadenza quasi scontata. Non c'è commercio, non ci sono attrattive e quel poco che è stato fatto per dare prestigio al centro storico sembra non aver sortito gli effetti sperati. In troppi preferiscono i centri commerciali e i negozianti rimasti soli e senza sostegno da parte delle istituzioni non hanno più gli stimoli utili ad andare avanti. Su quanto accade è recentemente intervenuto il parroco della cattedrale di San Giovanni Battista Don Giuseppe Burrafato sul giornale della Diocesi insieme a commento della pubblicazione di un articolo dell'allora parroco della cattedrale Don Carmelo Tidona risalente a 25 anni fa in cui si fotografa la situazione di un quarto di secolo addietro proprio in quella zona della città. L'attuale parroco Don Burrafato sottolinea che sono passati quasi 25 anni e i problemi allora denunciati sono rimasti tali e quali continuiamo a celebrare più funerali che battesimi, la popolazione si è spostata ancora di più verso la periferia, mancano i servizi essenziali che possano aiutare gli anziani e spazi per lo sport e il tempo libero dei ragazzi, il verde è carente, i trasporti pubblici insufficienti. Questo quanto denunciava allora padre Tidona e questa è la situazione di oggi. Lo dichiara anche Don Burrafato e su questo prende spunto anche il consigliere del PD Mario D'Asta. Non possono che essere condivisibili queste osservazioni, sottolinea D'Asta. Adesso l'autorevole intervento della chiesa locale non fa altro che certificare un disagio, un disagio che ormai c'è, esiste da tempo. Serve creare un tavolo operativo e non solo di confronto, che coinvolga operatori, commercianti e residenti. Il primo passo, ad esempio, dovrebbe essere quello di rendere vigente il piano particolareggiato. Mancano i servizi essenziali, lo scriveva già padre Tidona 25 anni fa e da allora a oggi poco o nulla è cambiato. Come le strutture per lo sport e più superfici di verde attrezzato, in più servirebbe un programma di eventi che davvero riesce a calamitare i flussi di quest'area della città anche nei periodi meno gettonati come quello invernale o primaverile. Insomma, la chiesa ha riacceso i riflettori su una zona rimasta per troppo tempo al buio. Adesso sta nell'attuale amministrazione rimboccarsi le maniche per dare nuovo lustro a quello che prima era il salotto buono della città.